Riperimetrazione della zona rossa del centro storico dell'Aquila, un argomento che fa discutere e che crea qualche frizione anche tra maggioranza e opposizione. Se ne è parlato questa mattina a Villa Gioia in Commissione Garanzie e Controllo. Il presidente Raffaele Daniele chiede all'amministrazione se il centro è sicuro e soprattutto, visto anche che i puntellamenti dopo sette anni cominciano a cedere, se il comune intende usare le prescrizioni indicate dal prefetto Alecci. Ci siamo resi conto che l'ultima riperimetrazione che è stata fatta, questa del 1 settembre 2016, è più vasta di quella che era nel 2010 e che molte abitazioni che sono oggi in zona rossa sono abitazioni che invece sono tornate agibili, hanno l'agibilità e sono abitate. Allora chiediamo all'amministrazione se il centro storico è sicuro o no, come mai nel 2016 sono zone non accessibili in più rispetto al 2010 e come i cittadini possono accedere liberamente alla loro abitazione, se per accedere alla loro abitazione devono assumersi loro la responsabilità oppure se è il comune che deve garantire l'accesso ai cittadini alla loro abitazione che oggi è diventata zona rossa. Poi il prefetto aveva fatto una riunione dove aveva chiesto che venissero messe delle transenne puntellate al terreno con dei cancelli. Chiediamo anche qui se l'amministrazione ha intenzione di seguire le indicazioni del prefetto oppure no. Per la maggioranza bene ha fatto il comune ad aumentare il perimetro della zona rossa, che sia più ampia a 7 anni dal sisma non significa nulla. Alcune zone sono cantiere, per il capogruppo del PD Stefano Palumbo, anzi ogni mese la zona rossa dovrebbe essere riaggiornata. Per motivi diversi, ad esempio per la presenza dei lavori legati sotto servizio ad altro, quella zona si rende meno sicura. Quindi l'invito che bisognerebbe rivolgere all'amministrazione è di fare, di aggiornare questa cartografia con frequenza quanto meno mensile.